signori siamo finalmente alle pull per aiato quindi siamo a pt10 siamo a pt10 preciso 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 non pulleremo per l'arma abbiamo 21k primo e 8 boccini quindi in realtà abbiamo un totale di 22k primo abbiamo già vinto 3 50 e 50 questo sarebbe il quarto non me la voglio mena ma molto probabilmente il primo lo shaftiamo quindi io spero vivamente di portarmi aiato a casa nel breve tempo obiettivi io vorrei tantissimo costellare la piccola yunjin shalin ormai penso che lo sappiano pure i muri ce l'abbiamo c54 sacros idem e yunjin invece ce l'abbiamo c1 quindi mi piacerebbe prendere qualche costellazione di yunjin ma tanto lo sappiamo come andrà mi uscirà sempre solo shalin quindi non ci metto proprio le speranze detto questo signori io ho bisogno di tutta la vostra carica perchè si inizia e io sono veramente un po' in ansia 3 2 1 andiamo a pt20 via fa che sia yunjin fa che sia yunjin io lo so che mi piace shalin me lo sento me lo sei me lo sentivo me lo sentivo ciao shalin ci rivediamo e gain io e te veramente un amore io tu e guba siamo una vera e propria famiglia ok via al dente e al dolore e siamo a uno ok la prima bomboniera l'abbiamo avuta infatti a suegna bella solo lei bella bella bellissima ok dicevamo con questa andiamo a pt30 quindi sempre con calma insomma non abbiamo fretta pt30 andiamo ok na yunjin eh certo tanto mica ce l'abbiamo rancappata a 454 mila cioè va bene così no ormai ne ho tre do flutto do flutto sto facendo un'orchestra va bene dai guardiamo il lato positivo sono due quattro stelle nella stessa multi guardiamo il lato positivo be positive ok con questa saliamo a pt40 e guarda la prima yunjin se si è proprio yunjin guarda prossima sacrosa per variare dici ma carato e bella siamo a posto vanni lascia stare guarda vamonos pt40 pt40 no sto male 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 pt40 non può mai essere lui non può mai essere lui pt40 mai nella vita mai nella vita non può essere lui non può pt40 non può essere lui Tra l'altro questo è 31 31 32 33 Non ci credo 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 Mi è uscito a 33 Non ci credo Non ci credo Oh mio dio No non ci credo Oddio Doveva uscirmi per forza Questo è il destino Oh io conservo tutto Cioè nel senso Madonna raga questo è il quarto È il quarto 50 e 50 Che vinco e mi è uscito a pt33 No è un sogno Adesso mi sveglio e siamo ancora in manutenzione Per forza Per forza Sono felice per te ma vergognati È un bellissimo Facciamolo uscire un altro Eh no mi devo uscire per forza da qua No miss Allora aspettate Adesso finiamo un attimo la multi E poi vi parlo Ma che bella è sta splash art Ma quanto bella è sta splash art Ma è bellissima Guardate che colori che hanno usato Con il viola È proprio bella È proprio bella Ok Andiamo avanti Quindi questo è uno No ci credo pure Yunjin Si vola Si vola Sto volando raga Sto volando Sto volando Sto volando Sto volando Yunjin ci Aspetta ma io ce l'ho C3 Yunjin Questa è la C4 Non mi ricordo più le costellazioni Yunjin ma non ce l'ho C6 Quindi buona Sono buggata Sono buggatissima Adesso in questo momento Mamma mia Aiuto Va a giocare di corso Una bolletta Cavolo No La multi della vita Adoro troppo Adoro troppo E niente Raga allora Io Vi devo dire la verità Ma come lo metto Il video su youtube Non dura neanche 10 minuti Cosa faccio Cosa faccio Allora perché Vi spiego la mia situazione Vi spiego In realtà Allora In realtà Io potrei Continuare a pullare per lui Però in previsione Del video che ho fatto oggi E quindi Delle prossime rerun C'è Yelan C'è un ipotetico Kazua C'è un ipotetica Rerun di Itto Io devo conservare E' un'occasione Troppo d'oro Per non conservare Perché tanto lui Mi serve C0 L'arma non mi serve Perché è un adcutter Runcappata 2 Non mi serve Quindi l'unica cosa È che ci pulliamo Poi queste qua Adesso che portiamo Su a Yato Devo Devo conservare Raga Devo conservare Perché mi interessa Di più prendermi In Itto C6 Piuttosto Secondo me Secondo me Ciak Signori Abbiamo preso A Yato A Pt33 Questo video Questo video Si è concluso Dopo 3 Minuti Io ringrazio Anche la chat Che è stata Di supporto Quindi Niente Adesso Ce l'andiamo A testare E vediamo Dove ce lo portiamo Stagliato A che livello Quali talenti Se Non lo so Ci vediamo Ok Aspettate Dobbiamo Discorso sensato Io vi ringrazio Tantissimo Per essere stati Qui con me In questo video Ringrazio la chat Ringrazio tutti coloro Che guarderanno Il video su YouTube Mi raccomando Lasciatemi un mi piace Iscrivetevi Attivando la campanella Per non perdere Tutti i prossimi video Magari un pochino Più lunghi di questo E detto questo Noi ci vediamo In live Tutti i giorni alle 14 E ci vediamo Come al solito Qui su YouTube E sugli altri social Vi mando un bacio E grazie Bye Ciao